Ovviamente il tema più caldo di questi giorni non può che essere Berrettini, sì, in parte anche Sinner, sconfitta del Tokenbosch, un po' così giocando male, fisicamente parlando anche proprio, insomma, non all'altezza di certe situazioni, però ovviamente Berrettini è praticamente sulla bocca di tutti. Lo scorso anno rientrova l'infortunio, vinse Stoccarda e il Queens, ossia ATP500 di Londra, in fila, uno appresso all'altro. Quest'anno invece un disastro perché rientra Stoccarda ma c'è solamente il rientro proprio fisico in campo, ma per tutto il resto, insomma, nei colpi, nell'equilibrio proprio nel colpire la palla, cioè, tempo sulla palla, disastroso. Poi fa quelle smorfie di dolore, comunque sembra un piccolo infortunio. Ho visto anche le immagini, no, dell'allenamento pre-Quins, anche lì smorfie cercano di ruotare il busto per sentirsi, per sentire il suo corpo, sentire come risponde il suo corpo. E alla fine, anche in questo caso, insomma, arriva alla decisione di saltare il Queens. Quindi, insomma, se non è un disastro questo, cosa è? Cosa lo è? Quindi perde comunque tutti i punti, lo scorso anno vinse il Queens, quindi 500 punti persi praticamente, perderà un bel po' di posizioni in classifica. L'entry list di Wimbledon, ovviamente, già è chiusa, quindi qualcuno diceva, no, senza sapere nulla, potrebbe fare addirittura le qualificazioni per Wimbledon? No, assolutamente no. Però, insomma, anche lì, come ci arrivi a Wimbledon? Wimbledon, in comunque pochi giorni, sì, potresti migliorare un pochino, ma non più di tanto, cioè, almeno secondo il mio punto di vista, servirebbe un qualcosa di miracoloso quasi, non lo so. Però, addirittura, penso anche al forfè di Wimbledon, a Wimbledon, a questo punto, cioè, mi balena anche questa idea in mente, non lo so, non so cosa pensare. Siamo tutti, no, sotto questo punto di vista abbastanza demoralizzati, inevitabilmente, perché vederlo così, comunque, Berrettini, poi, ovviamente, l'italiano cosa fa? Allora, l'italiano medio, ci mette il carico da 90, e la satta, da quando è andato con la satta, e di là e di qua, e le pubblicità, e? Insomma, cioè, così non lo si sostiene Berrettini assolutamente, anzi, lo si affossa ancora di più. E se si è veri italiani, sì, ok, delle critiche, critiche costruttive, ci possono stare nelle varie situazioni, ma non critiche di questo tipo, per far del male proprio. Queste sono critiche proprio per far male al giocatore, alla persona. Veramente contrario, sono assolutamente contrario a tutte queste cose qui. Fatto sta, ben ritrovati in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Doveva giocare, quindi, i Queens Berrettini, ma da forfè. A Londra abbiamo Alcaraz, testa di serie numero uno, Rune, testa di serie numero due, mamma mia, meno lo vedo, meglio è. Abbiamo un unico italiano, Lorenzo Musetti, che comunque perde quel match con Tiafò a Stoccarda. Tiafò che poi vince il torneo, è una finale veramente bella, bella, bella contro il padrone di casa, Struff. Che avrebbe meritato anche lui, insomma, di vincere un torneo, però, comunque, bravo Tiafò, ma due giocatori che, comunque, sull'erba mostrano assolutamente le loro abilità e si è visto, si è visto, insomma, si è vista la partita che è uscita fuori. Però, vabbè, Musetti, che per quanto riguarda il percorso a Stoccarda, come avevamo detto nello scorso video, insomma, positivo, almeno a mio avviso, perché fondamentalmente inizia, comincia a vincere su erba. Ora, primo turno a Londra, quindi sedicesimo di finale, contro la wildcard britannica Czoinsky. Quindi, speriamo, insomma, possa essere un esordio abbastanza comodo, anche se mi ricordo ancora l'esordio di Sinner, due anni fa, forse, o lo scorso anno, adesso ho un buco di memoria, contro Jack Draper, padrone di casa sempre. Sinner perse 2-7-0, se non vado errato, doppio tie-break, a sorpresa. Quindi, attenzione. Però, vediamo cosa accadrà. Carlos Salkaraz mi stuzzica l'idea di vederlo vincere comunque un torneo su erba. Mi stuzzicherebbe anche, ovviamente, Musetti, ma... Cioè, questo è il sogno, proprio, perché... Passare da cominciare a vincere su erba, vincere partite su erba, a vincere un torneo di questo calibro, poi, insomma, ce ne passa. Quindi, vediamo come andrà, insomma, il torneo. Andy Murray, Andy Murray che vince il secondo challenger di fila, numero 38 al mondo. Adesso la classifica più alta dei 5 anni a questa parte, affronta De Minaur, tra l'altro, al primo turno. Per quanto riguarda, invece, l'altro ATP 500, quello di Halle, quindi, in Germania, abbiamo, ovviamente, testa di serie numero 1, Daniel Medvedev. Che, Daniel Medvedev, oddio, Halle dello scorso anno lo vinse Medvedev, no, no, lo vinse Urkac, sì. Lo vinse Urkac in finale contro Medvedev, tra virgolette a sorpresa. E, vabbè, italiani abbiamo Sinner, che se la vedrà con Gasquet, al primo turno. Attenzione a non sottovalutare i vecchi Volponi, come li chiamo io. E Sonigo contro Karaziev, che è un lucky loser. Quindi, Medvedev, testa di serie numero 1, Tsitsipas numero 2, Sinner è la numero 4. Questo è, per quanto riguarda Halle. Anche qui, vediamo come reagirà Sinner al bruttissimo torneo, insomma, di Art Tokenbosch. Sonigo, per andare bene, insomma, almeno, per far sì che mi vada bene la situazione, dovrebbe continuare a fare il suo. Dare tutto in campo, vincere più match possibili e convincere sotto questo punto di vista. Non ci aspettiamo chissà cosa, però, insomma, dai, forza Lorenzo. E poi, gli altri tornei, invece, abbiamo, vabbè, il WTA di Berlino, che è un 250, se non erro. Poi il WTA di Birmingham, sempre 250. Abbiamo Paolini, che è in campo in questo momento contro Linette, e stanno un set pari, però Linette in questo momento è a due punti dal match. Poi abbiamo Camila Giorgi, che se la vedrà contro Venus Williams, ragazzi, l'eterna Venus Williams, ovviamente wildcard per Venus, che è il numero 697 al mondo, attualmente, vabbè, la classifica conta, conta ben poco. E poi abbiamo, vabbè, 3-3-6 numero 1, Krejcikova numero 2, Ostapenko, ci sono varie giovani interessanti. Ah, e abbiamo anche Elisabetta Cocciaretto. Poi, 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 qualche altro torneo? Qualche altro torneo? No, questi, ovviamente, due WTA e due tornei ATP2, ATP500, insomma. Quindi, vediamo cosa accadrà, i tornei della scorsa settimana, vabbè, di Stoccarda, già ho accennato, no? Grandissima partita fra Tiafoe e Strouf. Mi sarebbe piaciuto veder vincere comunque Strouf, però, dai, va bene anche così. Poi, l'ATP del Tokenbosch, secondo titolo quest'anno, se non ero per Grigsburg, padrone di casa, quindi dopo lo scorso anno, vinse Van Rijtoven, a sorpresa, anche quest'anno è un olandese a trionfare nel torneo di casa. WTA di Ertogenbosch, Aleksandrova, bis al successo dello scorso anno. Mentre WTA di Nottingham, primo torneo per Katie Bolter, derby britannico contro l'altra britannica, appunto, Barrage. Quindi, questo è, ragazzi, e che dire, al prossimo video, al prossimo video, con il tennis, ovviamente, poi ce ne saranno altri, insomma, di altri sport, e come si fa all'inizio di ogni torneo. Forza Azzurri, tutti quelli che sono in campo, ma anche colui che non può scendere in campo attualmente, sia Matteo Berrettini, soprattutto a lui, dai Matteo, forza Matteo, dai!